Va bene, riprendiamo la nostra città 104, abbiamo in questo gioco qua, SimCity, noi abbiamo tutti i pacchetti di espansione, perché questa è la versione deluxe, abbiamo la città del futuro, ciò vuol dire che possiamo diventare la nostra città super super mega futuristica. L'altra volta abbiamo messo praticamente, questo innanzitutto è la stazione di pompaggio dell'acqua, vedete com'è figa, futuristica, poi questi sono i parchi, parchi naturali dove la gente insomma può andare a fare cose, e piazzando questi parchi le residenze si trasformano e diventano delle residenze abbastanza futuristiche, almeno salgono pian piano di livello, no? Guardate il pavimento che figo. Pian piano, pian piano si evolve tutto quanto. Noi siamo, sì, 172 abitanti, abbiamo quasi 8.000 simoleon, guadagniamo quasi 1.5 mila all'ora e abbiamo degli obiettivi qui a destra. Poi, vuoi sapere di più sul radio del valore del terreno? Non adesso, aspetta. Dobbiamo raggiungere 2.500 abitanti, dobbiamo piazzare il maniero di Maxis, che abbiamo scoperto l'altra volta, che stava, è tipo una specie di robot poliziotto, stava qui da qualche parte. Forse dove sta la telecamera, no, non dove sta la telecamera, stadi, attrazioni, culto? No, attrazioni? Cioè sono pure i parchi divertimento, raga, solo che abbiamo bisogno di tanti soldi, centro espositivo, monumenti, questo è tutta roba strafiga, ragazzi. Dobbiamo capire dove era quella cosa. Queste sono le megatorri, che sono strafiga, perché sono tipo quelle futuristiche, che pian piano crescono in altezza, la città si espande in altezza piuttosto che in larghezza, con queste cose, solo che bisogna aspettare ancora prima di avere sta roba. Il maniero Maxis, dove sta? Diventa, cosa dice, un magnate del petrolio. Sì, possiamo sbloccare poi il pozzo petrolifero, per avere più soldi, miniera di carbone, tutta sta roba dovrebbe darci un botto di soldi. Solo che non trovo, assolutamente, quella cosa che ci serviva. Dove cazzo sta? Ciao, Azzalona, come stai? Questo gioco io ho iniziato a giocarlo, è la terza sera che ci sto giocando, non avevo mai giocato a SimCity e mi sta piacendo un sacco. Questa città ha il petrolio, sì sì, abbiamo preso la città, ragazzi, che ha tutto, ha praticamente tutto, non gli manca niente, tranne il vento, forse. Ah, eccolo, no, non è questo, dove cavolo sta il maniero Maxis? Quello che dice lui, il maniero di Maxis. Mi avete detto l'altra volta dove si trovava? Commercio, trivellazione, elettronica, è una cosa che tipo si sblocca più avanti. Vabbè, senti, chi se ne frega. Dobbiamo fare cose semplici adesso, cioè non dobbiamo... Sto prendendo fuoco? Vediamo, qui dice 220 gradi, lo metto a 400. Ma che sta bene di testa questo? C'è una certa gente che non sta molto bene, a quanto pare. Le sta per bruciare la casa, mi sa. Cosa succede? Perfetto, desideravo proprio un posto in cui poter riunire, riunirmi in pace. Noi abbiamo detto l'altra volta che dovevamo fare qualcosa di importante. Non mi ricordo più che cosa. Forse è la polizia. Sì, forse è la polizia, aspetta. Polizia. Ondata di criminalità. I residenti hanno bisogno di essere protetti dalla criminalità che è imperversa nella tua città. Incrementa le tue forze di polizia alla svelta. Torre. Stazione di polizia. Ah, sì, sì, è qua. Aspetta, ma qual è il problema con la polizia? Vediamo un po' come sono messi. 6 su 10 celle della prigione occupate. Abbiamo 5 arresti al giorno. Criminali riabilitati, 0. Criminali rilasciati anticipatamente, 0. 9 crimini commessi al giorno. 3 criminali in libertà. 5 arrestati al giorno e 5 carcerati. Ok, questo cosa vuol dire? Che mi serve aggiungere altre auto della polizia? Mappa della criminalità. I criminali... Ah, forse perché qua non ci arrivano. Forse perché fino a qua non arrivano. Vedete la zona verde? Loro coprono questa zona. Copertura della mappa. Alta, bassa. Cosa c'è qua invece? Perché è tutto giallo così? Criminalità alta? Cioè, mi stai dicendo che qua c'è tanta criminalità? Visitatori. Furto. Evasione fiscale. Questi stanno evadendo l'età. Cioè, stanno facendo evasione fiscale questi? Non capisco. Catturati. C'è stato qualcuno catturato qua. Malversazione. Aggressione. Incendio doloso. Omicidio. Criminale. Ci sono dei criminali qua. Scusa, ma vive qui lui? Scusa, vai a bussare a casa sua, no? Dici, oh bro. Devo farti una visita. Dove sta andando il poliziotto adesso? Viene. Aspetta, aspetta. Come si mette in pausa? Qual è il tasto? Questo. Questo. Che sta facendo? Udcities? Due giochi diversi, sai Pino. Veramente due giochi diversi. Ma questo è fighissimo. È completamente diverso. Che sta facendo? Di pattuglia. Ok. Non lo so. Ci sono ancora dei criminali in libertà. Chiuso cerca sti lavoratori. Ok. Forse mi servono più macchine. Perché possiamo fare l'upgrade dell'edificio. Vedete? Abbiamo messo... Parcheggio delle volanti. Abbiamo messo due volanti. Frequenze delle volanti ogni 60 minuti. Con 10.000 possiamo mettere altre volanti in più. Ma io magari metto altre volanti in più. Spendiamo i 10.000. Sempre meglio averne in più. La copertura della parte della polizia è disponibile per i vicini. Ok. Forse questo vuol dire che coprono una zona più larga? Non lo so. Uccelle? Le celle per ora non servono. Servono più poliziotti che vanno in giro a cercare. Aprono nuovi uffici e sfilano i colletti bianchi. Ci sono... Non lo so. Ci sono ancora dei criminali in libertà. Il mappa dell'educazione non iscritti. Ah sì, dobbiamo metterla a scuola. Qua c'è un criminale che se la sta svignando, ragazzi. Possiamo segnarlo in qualche modo? Va a derubare qualcuno? Ma questo è un criminale. Dove cazzo sta andando questo rincoglionito? Buonasera, Juicy. Mmm, capisco. Vabbè, lasciamolo fare la polizia. Dovrebbe riuscire a fare qualcosa. Forse sono un po' lontani per quello. Rapina in corso? Mi serve un altro tasto per mettere in pausa in maniera più comoda. Ah, stava derubando il benzinaio sto rincoglionito. Porta in pre... Oh sì! Vabbè. Forse non dovevo mettere tutte queste auto, però vabbè. Perché adesso loro spendono un botto di soldi adesso. Per mantenere questa struttura. Che succede? Buonasera, Alessio. Buonasera, buonasera. Buonasera, Dekil. Cos'è questo? Polizia. Seleziona una città reclamata e collegata a cui offrire veicoli. Questa? Carica? Veicoli offerti? Mettiamone due, dai. Anche se questa città non funziona ancora, però vabbè. Dunque, abbiamo un bel po' di richiesta di mettere le nuove residenze. Adesso lo facciamo. Dobbiamo capire però in che direzione espanderci. Potremmo... Non lo so se queste auto vanno bene, ragazzi. Vabbè. Dobbiamo iniziare a guadagnare di più. Non stiamo guadagnando tanto. Comunque. Carenza di lavoratori. Vuol dire che abbiamo bisogno di gente in più. Assolutamente. Adesso. Intanto. Dobbiamo mettere delle stradine di merda. Perché quelle costano un sacco. Quindi facciamo così. Facciamo così. Così. Fino qua. Poi questo qua. Poi questo qua. Poi colleghiamo. Non è possibile disegnare una sala attraverso edifici collocati. Ah, c'è questo che da fastidio. Allora facciamo... Ecco, abbiamo già finito i soldi. Vabbè, non importa. Iniziamo a mettere le persone. Potranno vivere qui. Poi aggiungeremo altri, ovviamente. Queste li mettiamo intorno. Così. Ok, trasferitevi. Dai, su, su, su. Come siamo messi con le tasse? Stanno all'11%. Non so se stanno... Per ora non si stanno lamentando. Quindi li mettiamo al 12%. Tutto bene, Andrea? Tu come stai? Questa è la caserma dei pompieri. Il comune stava qui. Vediamo un po' che dicono al comune. A 5.000 residenti ci sarà un prossimo miglioramento. Non so cosa succederà. Ma si potrà migliorare in qualche modo. Per far salire le case di livello Bisogna mettere i parchi. E i parchi sono qui. Vedete? Allora. Dove c'è l'indicata la S dei soldi? Livello 1, 2 e 3. Noi per aumentare di valore le case, eccetera, eccetera. Così si espandono, diventano case più fighe, na na na. E credo di conseguenza anche pagano più tasse. Cioè pagano di più. Bisogna mettere appunto i parchi del livello 3. Solo che costano un po' di più questi parchi. In gioco a pagamento? Sì, sì. La scuola. Dobbiamo mettere la scuola, è vero? La scuola sta qua. La scuola elementare. 16.000. Ok, il nostro prossimo obiettivo è la scuola. Dobbiamo per forza mettere la scuola. E poi c'è la biblioteca pubblica. I sim vanno in biblioteca se non possono permettersi di andare a fare shopping. Se i sim si recheranno in biblioteca, la tua città diventerà sempre più istruita. Dobbiamo farlo per forza. Ciao Chirito. Abbiamo appena iniziato a giocare. Seconda città non c'è nessuno, quindi le due macchine che hai comprato stanno altra città e non questa. Lì non c'è ancora nessuno, sì. Vabbè, possiamo anche toglierli volendo. Qua, guarda, come si faceva? Polizia. Possiamo anche toglierli per ora, sì. Va bene. Ho capito però, così è figo perché non devi per forza spendere soldi per farli andare altri, per mettere altre nuove costruzioni, no? Tu fai l'upgrade di questo. E poi mandi le volanti dall'altra parte. Cioè serve, insomma. Ok. Abbiamo un pochino di soldi, possiamo mettere altre strade in più, qua in mezzo. Ma ci servirà una qua, così. 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 Questo non si può fare. Questo si può fare. E volendo... Non abbiamo più soldi, ok. Facciamo altre abitazioni. Speriamo che ci stiano. Ma dovrebbero, in teoria. Ok. Niente abitanti lungo l'autostrada. Non mi piace. Poi faremo la grid delle strade. E non abbiamo più soldi. Mannaggia, mannaggia. Le tasse per ora non sono male. Mi sa che non si sta lamentando nessuno. Ne sono al 12%. Stiamo guadagnando praticamente un botto delle residenze. Gli abitanti non erano di più. No, non credo. È per la polizia che si paga un sacco, ragazzi. Ecco, da me è un po' troppo. Tutto questo per la polizia. Le celle sono quasi tutte piene. Ok, allora. Forse dovremmo togliere le volanti. In più. Ci sono anche tre criminali in libertà. Sentite, io non capisco se queste auto che ho messo sono troppe. Come la cancello adesso? Vabbè, le abbiamo e le possiamo spegnere, quindi. Ok. Ci servono delle celle. Costano 15.000. Merda. C'è la della prigione all'ultimo piano. Ci servono queste. Perché ci sono troppi criminali e dobbiamo assolutamente iniziare ad espanderci. Eh, dobbiamo aspettare. 15.000 ci servono. Possiamo alzare ancora un po' le tasse. Stiamo guadagnando più 2.000, guardate. Per la polizia stiamo spendendo meno adesso. Perché abbiamo spento con le due volanti. Magari devo spegnere anche queste? Magari anche queste che è in più? Quindi abbiamo in teoria solo... 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 Auto della polizia è 6, ma funzioneranno solo queste due, forse. Quindi dovremmo spendere ancora meno. Polizia 400, sì. Smaltimento rifiuti, costa un botto. Ok. Qui c'è ancora la richiesta per quanto riguarda la domanda residenziale. E c'è tantissima richiesta per il reddito basso. Che sono questi qua, in teoria. C'è un po' di richiesta per i... Centri commerciali o comunque zona commerciale, appunto. Ma non so dove metterli adesso. Magari li potremmo mettere qui da qualche parte, li ficchiamo. No, non si chiede... Non chiedo mai i prestiti. No. Non mi piace. Voglio cercare... Cioè, almeno per me è una sfida. Faccio sempre tutto senza i prestiti. L'unica volta in cui ho chiesto un prestito era... L'inizio del gioco su City Skylines. Perché c'era scritto di farlo e ho provato. Eh, ma mi servono... Mi servono i soldi per le scuole. Possiamo anche aspettare. Prima di fare le celle possiamo fare l'istruzione. Ma è più importante forse mettere... Che ci siano meno criminali in giro. Forse, piuttosto. Per la scuola 16.000. Dovamo aspettare un po'. Velocizziamo il tempo. Facciamo un po' di soldi. Quindi più sono istruiti, più di conseguenza mi state dicendo che... Ehm... Fanno meno i criminali in giro. L'obbligazione non mi ricorda cosa serve. Questa è la versione Sim City Deluxe Edition. Ehm... Del 2013 mi pare sia questo gioco. Oh, Toplon! Grazie mille per l'appuramento! Bentornato! Una spam in chat per... Oh, Toplon che si abbona di nuovo! Il quarto mese... Stiamo a 13.000. Perfetto. Manca poco. Stiamo guadagnando più 3.000. Possiamo mettere le tasse al 13. Vediamo che succede. Forse... La criminalità è preoccupante. Le cere sono quasi piene. Aspetta, vediamo un attimo... Cosa dice riguardo a... No, che cazzo ho sbagliato. Aspetta, aspetta, aspetta. Ho sbagliato. Come si fa a vedere... Come siamo messi con questo... Così. La criminalità è preoccupante. Vabbè, ma non vedo criminali in giro. Però dice che ce ne sono ancora 3. Ok, possiamo mettere finalmente una scuola. Scuola, scuola, scuola. I tuoi sim... E... Instruisci i tuoi sim e avrai più laboratori esperti. Aumenta il valore del terreno e delle zone residenziali di livello medio. Ok, qui potremmo inserire la scuola volendo. Perché questa zona aumenterà di valore, di conseguenza. Lo mettiamo qua in mezzo. Sì... Yes. Sono tutti felici, guardateli. Così, di conseguenza, possiamo espanderci qua. Allora, cos'è questo? Fermata dal pulmino scolastico. I tuoi pulmini scolastici si fermeranno qui per prendere i bambini e portarli a scuola ogni giorno. Sì, anche nei fini di settimana. Capacità fermata dall'autobus 100 ragazzi. Ok. Allora, lo possiamo fare assolutamente. Ma prima... Facciamo ancora delle stradine in più. Così possiamo espandere un po' questa zona residenziale. Di poco. Ok. Facciamo... Possiamo fare ancora un po' magari. No, no, abbiamo finito i soldi. Vabbè, non importa. Quindi mettiamo le persone qui. Ci sono proprio i quartieri qua intorno. Diciamo che su City Skylines trovavo più facile capire quanto si sta spendendo... quante risorse... Cioè, quanto effettivamente stanno coprendo la zona a determinate cose. Ok. Per esempio, vi faccio capire di cosa sto parlando. Se guardiamo delle attricità... Qui sotto indica che abbiamo... La capacità è 5,4 e necessaria 3,1. E ci fa vedere che abbiamo il 2,3 in eccesso, no? E quindi qua capisco effettivamente quando devo fare l'upgrade. Poi, per esempio, qui da qualche parte c'è i Vigili del Fuoco. I pompieri, no? Qui già inizio a dire... Boh, servo ad aggiungere altro, non capisco. Dove sono... Dove c'era la clinica da qualche parte? La clinica stava... Sta qua. Per esempio, qui... 0 morte al giorno, 12 di 16 feriti curati al giorno, 4 di 5 ammalati curati al giorno. Siamo al limite, quindi. Sposta la centrale al centro della città. La polizia sta in pattuglia e ha perduto la città. Non posso, perché... L'ho già costruito. Poi la città si espande alla fine. Non posso, perché non posso spostarlo. Una volta che l'ho costruito, non posso più spostarlo. C'è solo la possibilità di demolirlo. Però se si può spostare in qualche modo, io non lo so, me lo potete dire. Però io non si... No, da quello che io so, non si può spostare. Questo è il parco, ok. Ma qui c'è la zona per quanto riguarda la zona commerciale. Ma non si è costruito niente qui. È stato inutile. Magari ci stanno le residenze invece. Qua non ci stanno. Ok. C'è ancora un po' di richiesta. No, in realtà sta scendendo. Cosa dice? Le tasse sono troppo alte, ok. Abbassiamole all'11%. Ok, quindi... La scuola l'ho messa. Ci stanno andando? Sì, sì, adesso le metto. Quando ora si fa dopo? Ciao, Patrizio. Buonasera. Grazie per il raid. Grazie mille. Perché non la demolisci conviene? Ma non ha senso che loro girano... Cioè... Non lo so, adesso vediamo. Non mi conviene, infatti, perché l'ho già potenziata. Ricomincia la scuola, sindaco i bambini sono come boccioli. Stavo leggendo boccoli. Che cosa? Ho detto cosa? Ci vorrà del tempo, ma con un po' di pazienza li vedrai sbocciare. Quando fioriranno, inquineranno meno. Commetteranno meno crimine e costruiranno industrie tecnologiche. Ok. Allora, facciamo intanto le fermate, come avete detto voi. Le fermate. Sopra una strada. Ah, ok. Quindi. Questo è il giro che farà, no? Boh, io le metto a caso, ragazzi. Ecco, sono felici di andare a scuola. Sì, stronza. Andate a studiare. Può espandersi in tutta la città, vero? Ok. Qui sono stati messi. Mettiamone uno anche qua. C'è qualcuno qui. Qui. Posso metterle tutte quelle che voglio? In tutta la città. Senti quanto urlano. Ho finito i soldi. Mi manca fare questa zona, ok. Ok, ok, ok. No, stavo ho finito tutti i soldi. Non mi sono accorta che stavo sprecando tutti i soldi per delle fermate. Quando ora si fa dopo, ragazzi? Non c'è un orario preciso. Più tardi. Più tardi. Orario scolastico dalle 6 fino alle 3. Cosa? Pulmini scolastici 2. Vediamo come si può fare l'upgrade, invece. Cartello della scuola elementare. Ok, penso sia inutile, ma ok. Capacità dell'autobus 50, ragazzi. Io credo che non abbiamo abbastanza... Non ci saranno tutti i ragazzi, però vedremo adesso. Qua è l'aula, quindi si espanderà anche questa struttura qua. Vediamo, se io volessi metterle qui, si potranno mettere in qualche modo, ok. Ciao, Corey. Quanto è stato autobus per completare il tragitto? Ci sono le fermate ovunque. Vabbè, cosa dicono questi? Sono così felice che abbiamo una stazione di polizia. Sì, però vedrai, questa città diventerà meravigliosa. Ma qua che succede? Stanno facendo l'upgrade. Allora, io ho sentito che nella stazione di polizia ci sono ben otto criminali in manette. Beh, otto criminali non sono tantissimi. Ok, ragazzi, adesso il prossimo obiettivo sono assolutamente le celle di prigione. Dobbiamo fare l'upgrade. Dobbiamo metterne almeno una. 15.000. Obiettivo 15.000, ok. Andiamo, velocitiamo il tempo. Sono... Dov'è scritto l'orario? Ah sì, sta qua scritto, ok. Non dovrebbe essere un problema in criminali in carcere. Buonasera Jack. Buonasera Davide. Quanto costa SimCity? Sinceramente non lo so, ragazzi. Io lo sto giocando perché ho fatto l'abbonamento all'Xbox Game Pass. E c'è sull'Xbox Game Pass. Ho fatto l'abbonamento all'Xbox Game Pass un paio di settimane fa o quando era. E praticamente è stata una figata perché ho fatto a un euro per tre mesi c'era l'offerta. Normalmente costa 9,98 o 9,99 al mese. Però periodicamente fanno delle offerte. Oppure se siete nuovi iscritti potete avere... Anche a voi mi sa la possibilità di farlo a un euro. E quindi lì c'è tutta la lista dei giochi che potete giocare. Xbox Game Pass per PC è fighissimo. 5 euro su Steam c'è? Eh però questa è la versione dell'AX. Non so che versione c'è su Steam. Sinceramente. Dai su che dobbiamo fare più soldi, veloce. Veloce, veloce. Veloce. Anche su Steam? Fammelo controllare subito. Aspetta, voglio vedere una cosa. Ma abbiamo questo signor Chirito che ha avuto già tre sospensioni. Ti avviso, Chirito. Un'altra stronzata viene bannato. Tre sospensioni vuol dire che stai continuando a non rispettare le regole del canale. Cioè... Stai tranquillo se non vuoi essere bannato dalla chat. Ok? E ascolta quello che ti dicono i moderatori. Ok, cioè ho aumentato un po' la richiesta per quanto riguarda la zona commerciale. Potremmo espanderci leggermente magari... Vicino alla polizia? Oppure qua? Un pochino qua li potremmo mettere. Non so quanti ce ne vogliono. Ma li possiamo mettere qui. Vicino alla polizia? No, in realtà forse vicino alla polizia non va bene. Aspetta, fammeli togliere qua. Perché vicino alla polizia dovrebbe starci... Ci saranno le celle. Vediamo come si espanderanno le celle. Un secondo. Tipo se dovessimo mettere... Ah sì, si mettono qua. No, in realtà ci sta comunque. Le possiamo mettere allora. Ok, si può mettere, si può mettere. Quindi lo rimettiamo. Va bene. Possiamo metterle anche qua. Ottimo. Qui è una zona... Ah sì, sì, ok. Ah, quindi questa zona, vedete, verde. Ma qui non ci sta nessuno. Perché c'è questo centro commerciale gigantesco. Togliamo le zone verdi. Ok, questo è inutile. Ma cos'è sta roba? Minchè, guardate, come si è voluta la residenza qua. Una cosa enorme. Devo mettere le fermate del bus, ma prima devo mettere le celle. Aspettate. Allora, lo facciamo adesso. Mettiamo delle celle in più. Non lo volevo mettere così. Si è girato, mannaggia. Vabbè, comunque abbiamo delle celle in più. Yeah! Sì! Adesso... Due criminali in libertà ancora. Ok, ok, ok. Adesso finiamo con le fermate, sì. Ho visto che la salute era in... Non so, era... Che succede qua? In questo momento potrei uccidere per un lavoro. Ah sì, perché sta aumentando la richiesta. Domanda commerciale. Ok, possiamo metterne ancora di più. Aspettate, aspettate, aspettate. Dobbiamo mettere dalle zone commerciali. Le possiamo... Cazzo, è cresciuto un botto la domanda! Reddito basso. Magari li possiamo mettere qui? Non sono un po' lontani? Vabbè, li mettiamo qua. O forse dovrei metterli in questa zona, che dite? Magari aggiungiamo una strada in più? Come si fanno i ponti? I ponti devono essere iniziati e completati sul terreno. Cosa? Ah, proviamo a far così. Ok, carino. Qua ci saranno... Ops, qua mancano delle strade. No, non così, aspetta. Strade dritte adesso. Ottimo. Poi qua si dovrà fare l'upgrade alle strade, ma per ora... Facciamo finta di niente. Mettiamo le zone commerciali. Così la gente può andare a lavorare qua. E qua magari così. Così forse dovrebbe andare bene. Blu richiesta di negozi. Blu scuro. Richiesta di negozi regionale. What? Sì, serve un parco. Però aspettate un secondo. Vediamo che succede. Se scende la domanda. Sto aumentando anche la domanda industriale. Va bene. Dovamo fare le fermate. Rallentiamo un po' il tempo. E facciamo le fermate. Quindi, siamo arrivati fino a qui, noi. Quanto costa? 200 costa. Stragasati. Ma arrivano anche qui? Dove c'è... Non ha senso metterli lì, vero? Nemmeno qua, forse. Dove ci sono le zone commerciali. Ma devo metterli solo dove sono le residenze. Credo. Penso. Vix, dopo... Se in live torno vado a mangiare. Va bene, va bene. Sono in live fino alle 11. Vabbè, le ho messe le residenze. Adesso dovrebbero essere... Cioè, eh... Non le residenze, le fermate. Voleva essere abbastanza, così, no? Quella della scuola, sì. Ma servono nelle zone commerciali e nelle zone industriali? Non credo. Vuol dire che i ponti possono andare solo da una sponda all'altra. Ah, ok. Vabbè, forse così dovrebbe andare. E io so come faccio a sapere se abbiamo... Insegna zero studenti. Zero di 370. Studenti iscritti, zero. Studenti non iscritti, 370. Ci stanno arrivando adesso. Dici, Leo? I parchi li mettiamo adesso. Ok, stanno arrivando gli studenti. I parchi li mettiamo. Che dice questo? La sala d'aspetto è gremita di simile attesa di essere curati. Ci saranno più stanze per i pazienti per poter gestire la situazione. Ok, ragazzi. Dobbiamo ingrandire. Hanno... Troppi malati. 12.000. Ci servono 12.000. Ci sarebbero 15 pazienti in più. Ok, non lo possiamo fare adesso, mi dispiace. Velocizziamo il tempo. Aspettiamo di arrivare ai 15.000. Più polizia. Quindi che dobbiamo fare? Aumentare le macchine? Riattiviamo queste? Più polizia? Quindi più macchine, no? Lo dice anche il comune. Niente lavoro, niente soldi. Rubare è l'unica soluzione. Rubare è l'unica soluzione. Ok, attiviamo tutte le auto. Che devono andare in giro. A catturare... Queste persone. Stronzi. Quanto abbiamo detto che serviva 15.000 per fare l'upgrade qua? Sì. La ragione... Regione che ci sono anche altre città. Come si chiama? Non lo so. Ma dove siamo in Italia? C'è una domanda. Come mai su se di Skyrim e tutti i miei cittadini se ne vanno? Faccio quello che dicono, ma non serve. Come mai? Se ne vanno perché forse non sono felici per qualche motivo. Forse non riesci a soddisfare delle loro richieste. Detto così... Non saprei cos'altro consigliarti adesso. Devi essere sicuro che... Hanno tutto quello che a loro serve. La sanità... Che non siano in mezzo alla spazzatura... E cose così, no? Pazienti in attesa... Uno. Ok. Pazienti curati... Dieci. Ok. Adesso possiamo aumentare finalmente. Quindi mettiamo... L'all'ospedaliere in più. La possiamo aggiungere qui. Perfetto. Vediamo un po' che dice... Undici pazienti in cura. Undici pazienti curati. Capacità per la cura dei malati... Venticinque. Pazienti in attesa... Perfetto. Andiamo a vedere la cosa della polizia invece. Cosa dice? Arresti tre al giorno. Criminali riabilitati uno. Rilasciati zero. Auto della polizia sei ma... Sì. Spero vada meglio così... E comunque non dice più niente. La gente protesta per troppa criminalità. Stanno protestando per troppa criminalità. Cosa devo fare più di così? Cioè ci sono le auto che non stanno neanche facendo il loro lavoro. Tra l'altro. Sono qui. Sono ferme le auto. Forse non ricopre bene la zona. Vediamo un po'. Un crimine commesso al giorno. Ehm... Com'è che si faceva vedere le statistiche? Ogni volta mi confondo su sto gioco. Com'è che si faceva? No, non così. Aspetta, così. Ehm... Ok. Qui che succede qualcosa? Qua c'è un criminale. Qua c'è un altro criminale. Ah, vedete? Loro coprono determinate zone. Quando se ne vanno in giro. Tutto quello che è in verde è praticamente dove loro vanno. Quindi vedete che sta auto fa il suo giro che deve fare? Sto facendo il giro che deve fare? Stanno girando più... Vediamo un po'. Seguiamo dove vanno. Che gioco è? Questo si chiama Sim City. La situazione mi sembra un po' drastica se la gente inizia a pensare a roba così. Però vedete che si espandono, arrivano anche qui. Non possono di certo andare in determinate case, penso. Però il pattugliamento è un po' lento, come dire. E poi questa zona come mai è più coperta? Copertura della mappa? Bassa polizia alta. Cioè, come mai questa zona è più blu? Vuol dire che è la zona dove vanno più spesso? Non capisco. È passato un anno nel gioco, puoi vederne allora. Anno 1. È ancora un anno. Non capisco. Qua c'è un criminale. Catturato. Yes, bravi. Hanno catturato un criminale. Ci sono ancora due criminali in libertà. Fino a qua non ci arriva la polizia. Vedete? Girano qua davanti. Girano qua davanti. Ma è giusto che girino qua alla fine. Qua ci sono tutte le zone commerciali. È che fino a qua non arrivano. E quindi mi state dicendo che devo per forza prendere un'altra stazione della polizia? C'è anche il distretto di polizia poi. Che si mette forse nelle città più grandi. Riccardo, grazie mille per l'abbonamento. Benvenuto. Sei il centesimo abbonato. Yeah! Grazie mille per il livello 1. Un nuovo abbonato, ragazzi. Sapete cosa dovete fare in chat. Si chiama Carlon SimCity. Aspetta, la polizia si fa il suo giro. Aspetta, quindi abbiamo attivato tutte le auto. Sono attive? Sì, sono attive tutte le auto. Ok, stanno ancora protestando questi per la troppa criminalità. Vediamo. No, ok. Quindi ho riattivato tutte le auto. Aggressioni, rapine, furti. Ecco cosa mi ha fatto diventare sindaco. E vai a scuola a studiare e non rompere i coglioni. Allora, la scuola è aperta. Andate a studiare. Diventate dei bravi cittadini. Se no vi sbatto in prigione. Avete capito, stronzi? Ecco, ci sono tutti i bambini pazzi che urlano. Comunque è arrivato il momento di mettere dei parchi. Facciamo salire questo posto di livello un attimino. Perché non si può più vedere. Cioè, fa schifo. Ci fa vergognare questo pezzo della città. Parchi. Mettiamoli di livello 2. Mettiamo un campo da tennis. Palla canestro. Palla volo. Mettiamo un campo della palla volo qui da qualche parte. Lo mettiamo... Coprirebbe questa zona. Noi vogliamo coprire un po' di più. Ecco, lo mettiamo qua così. Yes. Vediamo come dovrebbero salire di livello di conseguenza. Ci servono però anche i parchi futuristici che sono questi. Questo è il parco futuristico. Giusto? Sì. Questo innovativo parco sfrutta un software che rileva la tua posizione e accessori che amplificano la percezione della realtà per fornire un percorso a ostacoli interattivo, con strutture per lo skateboard, arrampicate e molto altro. Vedete, mi sa che stanno facendo l'upgrade delle case adesso. Sono le popolari? Sì, sì, vanno a scuola. Sì, sì, sì. Adesso è vuoto ovviamente, ma vanno a scuola. Ci serve un parco... Questi sono i parchi di base. Natura. Piazza. Laghetto. Sport. Possiamo mettere un parco in più e lo metteremo... Come ben vedete è la zona. Vedete tutta la parte blu? È la zona che sale di livello perché ci sono i parchi, no? Quindi ci serve a mettere un altro parco qui. Anzi. Sì, così. Oppure ci servirebbe a mettere qualcosa qua. Per coprire la zona qui. Vabbè, facciamolo qua, va. Facciamo un parco qui. Qua possiamo aggiungere delle persone in più. Non so se ci staranno. Questo no, aspetta. Questo togliamolo. Ok. Qua ci sono le zone commerciali. Qui magari ci si possono stare di cittadini in più. Non lo so. Noi proviamo a metterli. Se non ci stanno, chi se ne frega. Metteremo tutto quello che c'è che si può mettere, Giordano, assolutamente. Questa è la nostra prima città che tra l'altro sta crescendo sempre di più, mi piace. Cosa dice? Sono ferito qualcuno chiami un'ambulanza. Che stai dicendo? Che non ci arriva l'ambulanza? Siete pazienti in cura? Ok. Quanto copre? Fino a dove arrivano questi? C'è un modo di vederlo? Come faccio a sapere fino a dove... Ah. Perché copre questa zona qua. Quindi devo mettere un'altra clinica? E iniziamo a spendere soldi. Che dite? Si dovrebbe mettere un'altra clinica? Secondo me sì. Perché se ci espandiamo qui bisogna fare un'altra clinica per forza. Hai mai provato Genshin Impact? L'ho giocchicchiato due volte. Ci puoi fare anche più episodi o lo puoi finire in due o tre live? In che senso lo puoi finire in due o tre live? Io pensavo fosse una cosa tipo infinita. Allora, l'ospedale non si può mettere, ragazzi. Dobbiamo sbloccarlo. Il comune è diventato municipio. Quindi il comune si deve trasformare in municipio come prima cosa. Dobbiamo avere il dipartimento della sicurezza della regione. E in più costa 120.000. Quindi quello che si dovrebbe fare in teoria dovrebbe mettere una clinica in più in questa zona. Vedete che non ci arriva a coprire questa parte qua. Più ci espandiamo, meno ci arrivano. Invece i pompieri coprono bene tutta questa zona qua, più o meno. Il governo sta ai progressi. Va bene, dai. Siamo quasi 2.000 cittadini, ragazzi. Dobbiamo arrivare a 5.000. Cos'è dobbiamo fare ancora? Fai sviluppare 5 case ad alto reddito. Alto reddito. Quindi dobbiamo iniziare a mettere i parchi, quelli che costano un po', ragazzi. Questi qua dobbiamo mettere. Io cancello questo. E mettiamo il parco costoso. Cavolo, questo è un parco enorme, però. Cos'è questo? Piazza Fiorita. Cavolo, ma sono minuscoli. Questo comprende una zona bella, grande. Vabbè. Mi converrebbe fare... Vediamo un po' dove lo potrei inserire. Eh... Magari lo mettiamo qua. Perché avevo distrutto le case. Formali. Piazza con fontana. Ok, questo lo potremmo mettere anche qui, volendo. In questa zona. Ok. Guardate, è diventato subito il terreno blu. Guarda che merda qua. È possibile contrastare, secondo voi, con i parchi questa zona? Boh. Si espande, si espande. Diventano di livello più alto queste zone. Così è scritto, Patrizia, ti ha cancellato il messaggio del bot perché è troppo lungo. Vediamo. Devi dare spazio per costruire i palazzi, se no non entrano. In che senso? Se posso dare aiuto, i tuoi edifici civili, commerciali e forse anche industriali hanno un problema. Gli edifici non hanno abbastanza spazio per diventare più grossi. Dovresti dargli più spazio. Quando posiziono in un'area residenziale, commerciale, industriale, c'è una linea stretta vicino a poco dietro, la linea grassetta accanto alla strada. Se provi vedrai sicuramente. Quello è lo spazio che è un edificio necessario per migliorarsi e diventare più un grattacielo. Ok. E' perché io non lo sapevo sta cosa che si potevano upgradeare gli edifici, capito? Tipo, proviamo a vedere un attimo. Se dovessi mettere una clinica, no? E' quel quadretto quasi minuscolo, quel rettangolo qua dietro? Quello lì? E' anche quello alla sua sinistra. Aspetta, non si vede più adesso. Ok, qua la polizia invece... Vabbè, la polizia ha un po' di spazio. Vabbè, ma scusami. Chi se ne frega, si cancellano le case al massimo. Se non ci stanno. Tipo questa... Tranquillamente ha lo spazio. Dove sono i pompieri? I pompieri stanno qui. Anche loro hanno lo spazio. Se volessi fare l'upgrade... L'alarmant incendio serve? Sopra una strada. Che cazzo dice? Sopra una strada. Sveglia quei pompieri dormiglioni dei loro sogni di... Vabbè. Dove si mette sta roba? Non capisco. Ma sì, ci stai. Cancelli le case al massimo. Ok. Per mettere la campana aggiungi una garage in più. Ah, ok. Per ora però non abbiamo bisogno. Quindi... Qual è... Cos'è che devo fare adesso? C'è il giallo qua. Come mai? Le aule sono piene. Ah. 150 su 150. Eh, le abbiamo le aule in più. Ma ragazzi, ma... Come faccio a capire se invece ci sono... Eh... I pulmini riescono a raccogliere tutti i bambini? Ciao, Gabri. Migliorato l'edificio. Eccolo. Ma questa è una piscina? Cioè, praticamente c'è qualcuno che vive con la piscina. In parte alla scuola. Canri e le... Ah ah. Questo si è evoluta. Questa zona. Ok, questa ancora no. Quindi mi state dicendo che adesso queste case possono salire di livello un botto? Densità. Ok, io devo migliorare le strade perché così ci saranno più persone, no? Che vengono a vivere. Giusto? Devo migliorare tutte le strade adesso, mi sa. Insieme a 190 studenti. Ok. Come faccio a capire se ci sono abbastanza pulmini? No, e beh, grazie al cazzo. Se ci sono 190 bambini adesso che vanno a scuola... 190 di 302 sono iscritti. Gli altri cosa stanno facendo? Stanno guardando cosa? Alla tv? Stanno giocando a Fortnite? Piuttosto che andare a scuola? Comunque, se abbiamo 150... No, aspetta. Quanti... Questi due pulmini? Quanti ne raccoglievano? 150? Vuol dire che mi servono... 40? Avanzano? Vuol dire che mi serve mettere... Due in più. Yeah! Uhu! Andate a scuola, piccoli bastardi! Comunque, mi serve capire cos'altro devo fare. Carenza di lavoratori. Alcuni edifici non hanno abbastanza lavoratori per funzionare. Assicurati che ci siano abbastanza lavoratori in grado di raggiungere questi posti di lavoro. Excuse me, cosa devo fare, quindi? Richiesta come... Io non ho capito ancora un'altra cosa. Perché c'è questa enorme richiesta delle zone residenziali a reddito basso. Quindi devo per forza tenere una zona a reddito basso? Che poi pian piano... Ah, sì, perché la gente se si trasferisce non si trasferisce subito in una residenza magari super mega costosa. Piuttosto si inizia con una residenza... Cioè, con una zona per i poveri, no? Quindi possiamo espanderci ancora qui. Ancora qui. Ancora qui. Ancora qui. Giusto, no? Ok, ho capito. Ottimo. Quindi adesso dobbiamo fare ancora delle strade di merda. Facciamo, va bene così. Facciamo. Questa dovrebbe essere le zone a reddito basso, comunque. Ton, ton. Qua non ci stanno. Clicca il control per fare più veloce. Per fare cosa più veloce? Control per far che? Quando? Ah no, stanno di livello 2. Vedete che si sta espandendo? Vabbè, dovrebbe scendere pian piano. Secondo voi? È troppo lontana questa zona industriale per le persone? Sta scendendo la domanda? Boh. Dobbiamo mettere un'altra clinica comunque. Qua dobbiamo metterla per forza, mi sa. Quello che hai fatto adesso? Non so cosa ho fatto. Troppo lontana? Dobbiamo farne un'altra qui, mi sa, allora. Dobbiamo farla qua. La facciamo qui in fondo. Quanti soldi sto spendendo per fare ciò? Uh! Ok, abbiamo già fatto questa cosa. Nel caso si arriva lì. Da qua si può fare questo. E questo. Ok. Mettiamo la nuova zona. Per i nostri amici lavoratori. Forse così potrebbe bastare. E l'unica cosa che dobbiamo controllare adesso è questa. Come siamo messi con l'elettricità? Ah, siamo ancora a posto per ora. Controla adesso. Quanto? Come devi fare un'altra zona industriale? Sì, sì, qua vicino l'abbiamo fatto. Forse non dovevo farla così attaccata, questa zona. Boh, non lo so. Ti consiglio di provare anche SlimeRancher. Questo lo puoi finire in due live. Sì, sì. Quello ce l'ho in programma. Compratori con reddito medio insufficienti. Le attività commerciali non ricevono sufficienti compratori con un reddito... È sparito. Oddio, ma questa nave qua? Da dove arriva? È perché ha fatto il rumore che fa un camion. Questo è il valore 1. Ok. Ma la domanda è scende o non scende? Un pochino è scesa. Quale industria e quanto stanno inquinando effettivamente? Dove si vede l'inquinamento ogni volta? Mi dimentico! Donde sta l'inquinamento? Non sono ancora abituata. Dove cazzo è? Questo maledetto inquinamento... Ragazzi, dov'è? Quando esce Frasspunk su YouTube, deve uscire assolutamente domani, perché sono in ritardo con i video su YouTube. Quindi domani uscirà, ve lo giuro. Autobus. Deposito per navette. Aiuto insieme ad andare da spazio per la città, le navette... No, quel cazzo, adesso non c'ho voglia. Schiaccia alta F4 per avere un regalo. Ti faccio alta F4 su di te adesso, vuoi vedere? Frank. Vuoi vedere? Come è divertente? L'elettricità ci arriva, l'acqua ci arriva, la merda se ne va. Il governo sta... Dove era, ragazzi? Dove era? Ah sì, si faceva così, forse, aspetta. Da qua. No, non era da qua. Come cosa dice? Carenze di lavoratori. Alcuni edifici non hanno abbastanza lavoratori per funzionare. Sicuro che ci sono abbastanza lavoratori per ragione. Eh, qual è il problema? Bro, c'è un botto di gente. Bro. Se premi Ctrl, Alt, Canch, ti si apre un menu veloce in gioco. Chiede a mostrare tutto quello che vogliono i cittadini. Ctrl, Alt. Non era questo. Non è questo. Questo è quello che apre gestire attività. Ma poi del valore del terreno, ok. Ecco, volevo vedere questo. Ok, qui non è malissimo. Forse mi converrebbe mettere dei parchi qui per far salire un po' di livello sta zona. Possiamo provare. Vediamo cosa succede. Dovrebbero di conseguenza salire di valore anche le industrie, immagino. Quindi, qua c'è un parco. Parco. Non c'è un parco più. Oh, guarda questo. Che copre bene la zona. Potremmo metterlo anche uno qui. Sì, cancella la merda intorno. Che figata. Ok, ok. Quindi pare che si possono mettere. Allora. Che parco possiamo mettere? Vediamo. Questi sono i parchi costosi. Però questo copre una bella zona. Avrebbe senso metterlo qui? Sì. Ok. Ok. È qualcosa di salito di livello, non so cosa. Una fontana con la mia statua al centro. Wow, siamo davvero una città del futuro. Comunque è la richiesta. Dobbiamo far scendere questa richiesta. Carenza di lavoratori. Che vuol dire carenza di lavoratori? Vuol dire che hanno bisogno di ancora più gente? Buonasera Fabio. Control per velocizzare. Mettere residenze commerciali e industriali. Ok. Dopo provo. Anzi, provo adesso. Ah, ho capito cosa intendi. Ok. Ok. Quindi, domanda industriale non c'è più. C'è domanda per quanto riguarda la zona commerciale. E c'è un voto di richiesta per la zona residenziale. Qui ci serve un parco. Del livello 3. Buonasera Luca. Così possiamo mettere delle residenze qui. Dove sono? Dove sono? Qua. Aspetta, potrei fare un altro quadratino qui così. 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 No. E qua, questo lo facciamo tondo. Così, ottimo. Cosa sono ste robe? Queste linee così? Ah, per le prossime strade nel caso volessi farle. Tan tan, 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 tan. Oh, è comodissima sta cosa. Grazie. Ok. Adesso. Che figata, guarda come si sta espandendo. Potremmo fare poi nel caso di ingrandire la zona anche qui un pochino. Adesso. I soldi stanno salendo. Costruisci la residenza a parte opposta dell'autostrada. Sì, lo facciamo. Qual è il problema adesso? Sono triste perché per quattro mesi a partire da lui non potrò guardare le tue live. Vado a lavorare come cuoco in crociera. Che figata però, Ricky. È una bella esperienza. Non essere triste. Il fatto che sicuramente ti potrei guardare qualcosa. Magari ti puoi vedere i video su YouTube che saranno più brevi, ma... Qualcosa ti vedi, no? Meglio SimCity o CitySkylines? Non lo so. Sono entrambi due sfighi. Però sono due giochi diversi. Questo mi piace molto perché è una sfida nuova. Con cui c'è da imparare. Un bel po' qui. Diverso. Questo è divertente a modo suo. Molto anche. Raggiunti 2500 residenti. Il maniero di Maxis. Quanto ci manca? 40.000. Ok. Manca poco. Non ho mai fatto una canzone, no? Beh, buonasera. Buonasera. 40.000. La residenza è aumentata qui. Sì. Noi adesso tranquillamente potremmo espanderci in questa direzione. Avete ragione. Ma secondo me prima dovrei fare l'upgrade delle strade? E comunque sono alcune zone che sono tipo più futuristiche. Altre no. Altre sono normali. Questa non dovrei farle tutte futuristiche, vero? Dovrei poter... Magari dovrei fare solo... Dovrei pensare a zone. Tipo una zona futuristica. E una zona no. L'upgrade di cosa, Leo? Io non mi accontenterei di YouTube. Vorrei che ti ho scoperto su Twitch dopo troppo coinvolgimento emotivo. Lavorerò ogni giorno dalle 7 di mattina fino a luna di notte. Porca miseria. Sono troppo triste che non potrò guardare tutto. Eh vabbè, te li vedrai. Non preoccuparti. Qualcosa magari riuscirai a rivedere. Tanto si salvano i VOD. Te li puoi rivedere anche quelli. Anche i quartieri, esatto. Sono divisi in quartieri. Il quartiere futuristico e il quartiere non futuristico. Per ora stiamo facendo un po' un mix, no? Però mi piace un botto come sta venendo. Guarda che figata. Ok, nel frattempo sto aumentando la richiesta. Qual è il problema qui? Le aule sono di nuovo piene. Dobbiamo espandere la squadra. Aule. Aula all'ultimo piano. Oh oh. E niente. Cazzo. Ci sono le strade qua che danno fastidio. Distruzione totale. Distruzione totale. Distrutto la casa di qualcuno. Rip. Possiamo mettere delle residenze qui? Cosa ha detto? Questo? Compratori con reddito medio insufficienti. Compratori con reddito medio insufficienti. Ci sono... Costruisci parchi o servizi cittadini per attirare compratori più benestanti. Ma che cazzo vuoi? Quindi... Dobbiamo aggiungere più parchi qua forse. Ok. Un palco in più. Mettiamo qualcosa di questa roba qua. Skate park medio. Guarda quanto costano! Campo da baseball. Ovviamente coprono un botto, ragazzi. Sì. Sì. Ok. Dovano salire di livello tutti. Ok, qua dovrebbe andare meglio. Questa zona invece... Un mini parchetto verde qua. Questa è un po' una cagata. Così. Vabbè, lo mettiamo qua. Cioè, ma che senso avrebbe sta cagata? Questa dovrebbe essere messa lungo le strade, forse? Non capisco il senso. Si è voluta anche l'autostrada. Salve signore, dobbiamo demolire la casa. Perché? La scuola. Ho un'idea. Una statua olografica di te al centro della città. Inizio a lavorare alla mod. Questi vogliono fare qualcosa nella loro vita? Vogliono rendersi partecipi? Cioè, vogliono fare questa città più bella? Dai, sbrigatevi. C'è il parco. Dovrebbero fare l'upgrade, scusami. Vabbè. Che faccio? Ah sì, dovevamo arrivare a 30.000 per fare qualcosa. Cosa bisogna fare? Buonasera, Dave's. Lo riporterai questo gioco? Sì, assolutamente. È la terza serie che lo stiamo giocando. Non di fila. Facciamo una sera una cosa, una sera un'altra cosa. Aumenta velocemente le tasse. Mettiamo il 12%. Vediamo che succede. Educazione, cavolo. È salito un botto. Anche i parchi. Ne stiamo mettendo un sacco. Che faccio, ragazzi? Aumento l'upgrade delle strade? Domanda residenziale per quanto riguarda... Tasse troppo alte. Ma vai a cagare! Ma tu non ti fai mai i cazzi tuoi, vero? Se non dicessi niente, magari nessuno se ne accorgerebbe. Stronzo. Allora, dovremmo mettere... Una nuova zona qui. Quindi lo costruiamo proprio seguendo queste strade qua. Facciamo ancora una zona qui. Aspetta, così. Va bene. Allora, qui facciamo. Ottimo. Perfetto. Adesso metteremo tutti i cittadini qui. Non lungo l'autostrada, però. Questo sì, questo sì, questo sì, questo sì. Questo sì. E tutto qua intorno. Forse diventa anche troppo. Qua non ho messo nessuno. Clicca sulla popolazione per vedere la statistica della popolazione. Allora. Reddito della popolazione basso, medio, alto. Non c'è ancora nessuno con il reddito alto. Perché? In visita nessuno viene a visitare questa città schifosa. Nei dettagli. Come vado? Come faccio a cliccare sulla voce? Ma raga, aspettate un attimo. Non c'era mica il mouse qua sopra? È scomparso. Domanda commerciale alta. Sbaglio? O si è sminchiato qualcosa? C'era il mouse, vero? Non vedo più il mouse del gioco. Salva. Usciamo un secondo. Ho schiacciato sulla popolazione e non mi è sparito il coso. Ok, riavviamo il gioco veloce. Fai sentire come in Italia, porta l'iva al 22%. Ok, lo riapriamo. Cosa devo fare? Scusate. La cosa positiva è che più o meno al mese guadagnerò dai 1200 ai 2000. Vado su una crociera di lusso. Potrò finalmente comprare quello che vuole con i soldi che guadagno. Mia madre vuole che vado a lavorare. Ma è giusto, Ricky. Ci sta. Ti farai un botto di soldi. Ti metti da parte. Ti prendi quello che ti serve a prendere. Non a tutti capitano queste esperienze così fighe. Che comunque, certo, è faticoso, però. Controlla la popolazione cliccando sul numero di cittadini. Ti dà informazioni utili sulla popolazione. Ti dice le esigenze, classe sociale, situazione lavorativa, numero di disoccupati. Ok. Ci sta, Ricky, ci sta. Ok, riprendi. E il mouse è tornato, a quanto pare. Promulgazione delle leggi di sicurezza droniche. What? È ritornata. Si è buggato in qualche modo, ragazzi. Ho cliccato qua. È scomparso. Allora. È scomparso di nuovo, guardate. È questo pannello qui, maledetto. 50 disoccupati. Del livello 2. Insoddisfatti. 107. Cosa? Di cosa sono insoddisfatti questi cretini? Posti vacanti? Mancano posti lavoro. Ma raga, devo riavviare di nuovo? Non vedo cosa devo fare. Dov'è il mouse? Ma tu sei un rincoglionito? Oh, raga, non funziona più. Dov'è? Niente. Alta F4. No, raga, non lo apriremo più, mi sa. Per l'info, io di tanto intanto seguo Pandora da altri e mi sembravi simpatica dagli altri live, ora sono qui. Grazie. Hanno ucciso l'uomo mouse. Ma anche da voi si muore di caldo? Sì, assolutamente. Qui oggi davano, figa, l'allerta meteo del livello 2, codice giallo, tornado, grandine gigantesca, per ora è tutto a posto. Però non si sa mai come potrebbe andare a finire, ragazzi. È un bug. Probabilmente non faceva parte della popolazione, quindi è andato via. Forse. Quindi, raga, qualcuno ha guardato prima su Steam e la versione questa qua esiste a 5 euro adesso. Deluxe. Perché se c'è io lo prendo lì piuttosto, perché l'Xbox Game Pass non lo otterrò sempre. O almeno su Steam, sì, mi rimane nel mio account. Posso giocare a quanto voglio. Ah, qui ha piovuto poco, c'è stato tanto vento, ma non è stato niente di che. Ciao, Patrizia, dopo. Buon appetito. Ok, quindi abbiamo costruito questa zona. Quindi abbiamo bisogno di aumentare... Hanno bisogno di posti di lavoro. Di posti di lavoro, giusto? E come gli alidiamo i posti di lavoro? Se non c'è domanda. No, domanda c'è in realtà. Cosa ho detto? Domanda commerciale alta. Ok, li mettiamo qui. Cancelliamo questi. E li mettiamo qua. Ok. Vado se siamo avanti lì anche qui, magari. Così. Forse dovrebbe andare meglio. Lo stadio è più avanti, adesso non possiamo metterlo. In più dovremmo fare le fermate dell'autobus qua, vero raga? Eh, sa di sì. Cosa cacchio sta volando qua? È un drone? Oddio raga, ci stanno tracciando. Stacca, stacca. Dove sta andando? Non le posso cliccarci, no. Ci stanno tracciando. Ok. Scenderà la domanda, maledetta? Buonasera, zettone. Come va? Fa freddissimo, raga. Quanto vorrei che facesse freddo. Visto in Germania ci stanno 30 gradi. Sì, pure qui. Qua sta crescendo la domanda. Sta scendendo questo. Appena inizieranno a costruire, forse scenderà un po'. Lo teniamo monitorato. Dovevamo fare cosa? Ricordate che dovevamo raggiungere i 30.000 per fare qualcosa? Cosa bisognava fare? La pulle si è voluta... Ah, sì, dovevamo comprare questo dalla polizia. Questo. No, non è questo. Il maniero di Maxi. 40.000 erano. Ah. Cazzo, ma costa 40.000 per completare la missione mi dà come ricompensa 5.000. Figa, ma sei un tirchio, lo sai? Sono ferito! Qualcuno chiami un'ambulanza! Questi stanno... Ok, scesa la domanda. Yes, ho capito quindi come funziona. Ottimo, 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 ottimo. Non era 40k, infatti. 40k. Dovevamo aspettare un secondo. La polizia non ancora si è voluta, però, pian piano... È possibile avere un pozzo petrolifero? C'è così tanto petrolio qui intorno? Sì, bro, un attimo. Non posso fare tutto! Il pozzo petrolifero... Zona industri... Com'è che si metteva? Aspetta. Si metteva andando qui, credo. Sì. Qui abbiamo... Pozzo petrolifero. Diventa un... Ok. Ok. Ci serve mettere questo. 37.000. Ok. Prima cosa, quindi mettiamo la cosa della polizia e poi il prossimo obiettivo sarà quello. Ciao, Flower Power. Tutto bene? Tu come stai? Sì, alla fine bisogna capire come funziona, no? Pian piano. Ci sta, ci sta. Poi velocizziamo un attimo. Questo sta scendendo. Questo va bene. Dobbiamo poi pensare a fare la grid alle strade, di conseguenza, così dovrebbero evolversi ancora di più le case. Che cazzo era quello che è passato? Poi possiamo costruire anche in questa zona. Qui potremmo mettere ancora qualche zona industriale, nel caso... Qui non ci stanno in molti. Ecco, ma possiamo mettere ancora una cosetta. Nel caso cancelliamo queste case e metteremo ancora una piccola zona industriale qui. Vabbè, si può mettere anche qua alla fine. Ok. Come siamo messi? 41, ok. È arrivato il momento. Lo possiamo mettere. Io lo metterei qui, in questa nuova zona. Aspetta però. Lo posso mettere qui? Di quanto spazio ha bisogno? Questo si evolve pure? Lo metto qua? Raga, prima di metterlo, ditemi se va bene qua, secondo voi. Ah, vedi la linea gialla. È la linea di... È la zona che... Lui deve avere, no? Ah, dovrebbe andare. Prima devi vedere dove sta il petrolio. Dove sta il petrolio? Come si vede sta cosa? Messo. Che cos'è sta cagata? Quella gialla ti dice che non puoi espandere, quindi non si espande più. No, invece si espande. Vabbè, fa niente. Cioè, come abbiamo fatto prima, nel caso togliamo le case e togliamo anche qualcos'altro. Pista di atterraggio per il reticulator. Cosa, scusami? Ma cos'è questa cagata? Ferite curate, criminali catturati, incendi estinti. Questo fa tutto? Attività di Maxis Man. Feriti. Richiedere garage, richiedere reticulator, richiedere... Che devo fare? In funzione. È un supereroe. Ma... Sta funzionando? C'è scritto in funzione. Devo fare qualcosa io? Governo. Un miglioramento del municipio è disponibile. La popolazione cittadina è in forte aumento e il municipio è pronto per il miglioramento. Ok, vediamo. Aspetta, dove sta? Il municipio, il municipio, il municipio sta qua. Migliora. Oh, vabbè! Incredibile! Che figata! Festeggiate! E adesso? Mi ha dato qualcosa di nuovo? Il prossimo miglioramento sarà a 14.995 residenti. Perché non è 15.000 a sto punto? Ma cos'è sto rumore? È questa zona futuristica che fa sto rumore? Adesso mi sa che possiamo modificare le tasse di tutto. Sì. Dalla zona residenziale, dalla zona commerciale, dalla zona industriale. Ok. E quindi quanto si mette? Cosa possiamo modificare? Le zone residenziali ci danno un botto. Le zone commerciali, le zone industriali. Le residenziali ci danno un botto, le industriali non tantissime, ma perché ci sono poche. Hmm. Ok. Ah, qui abbiamo un botto di persone. Qui com'è la situazione? Come lo mando? Come lo mando in giro? C'è scritto Manda Maxisman di pattuglia. Faccio questo, forse? Sì. Fatto. Questo dovrà andare a salvare i feriti, non lo so. 5.000, grazie. Dovrebbe fare qualcosa, non lo so, lo scopriremo. Perché lampeggia così? Ah, la mattina si sono spente le luci. Vabbè, vabbè. Con tanto di fuochi d'artificio? Sì, sì, sì. Bene, la domanda qui è scesa un sacco. Perfetto. Ma sapete che volendo potremmo anche fermarci qui se non c'è nient'altro di importante da fare? Ci potremmo spostare su Minecraft? Lei cosa vuole? Aspetta. Qui fai sviluppare 5 case ad alto reddito, ancora 3. Tu chiuditi per favore, mi hai rotto le palle. Assumi 10 lavoratori ad alto reddito nella tua città, ancora 6. Adesso come faccio a capire? Le zone ad alto reddito. Sì, faceva, residenze, mappa della densità degli edifici, mappa del valore del terreno. Che succede qui? Causa nessun compratore, edificio abbandonato. Come mai è stato abbandonato? Nessun compratore. Scusa, con tutta la gente che c'è? Compratori con reddito medio insufficienti. Mi serve aumentare la zona a livello 2, quindi, mi stai dicendo? Ora che la domanda qui è scesa, possiamo far aumentare di livello questa zona? Credo. Piazzando dei parchi di livello 2. Immagino. Credo. Ah, possiamo mettere un campo da calcio, guardate, copre tutta la zona, praticamente. Qua. Fighissimo. Ok, possiamo sì, demoliamo questo. Perfetto. Ecco, infatti stanno aumentando di livello adesso. Quando ora facciamo fra pochissimo? Sì, dobbiamo fare le strade adesso. Io inizierei da qua. Quindi, strada, miglioramento, media densità, questo è già media densità, media densità, media densità. Questo è già a media densità. Questo è già medio, 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 me, basso. Dobbiamo far arrivare il pulmino per la scuola nella nuova zona. Medio, ok. Questo è già medio, questo è basso, medio, 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 ok. Questo è un botto farlo. Questo è già medio, 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 dito medio. questo è basso, questo è basso, aumentiamo, ok. Questa musica fa straridere. non è 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 stanno finendo i soldi. questo è questo è già ad alta densità. Torniamo a medio come con tutti gli altri. Aspetta un attimo. Soldi. Abbiamo avuto i soldi. Questi stanno salendo di livello. Questi stanno aumentando le zone commerciali. Stanno salendo di livello quelle. per il bene della città è con una nuova alternativa ai complessi esenziali tentacolari condomini di lusso in costruzione. Dove? Come faccio a vedere di cosa sta parlando? Piazza del millennio. Sta dicendo? Parco con fontana grande. Cosa cazzo ho cliccato? Scusate. Ah questo. Se ci clicchi due volte puoi tipo ingrandire anche i parchi per l'upgrade dei parchi credo si puoi fare tipo determinate zone no? Oh cavolo devi sempre sapere bene dove piazzare le cose Sindacovic sono felice di vederti qui con noi penso a tutti i terribili delitti agli orrendi crimini che commetteremo si è benedetto il tuo freddo cuore criminale sono il dottore dottor stone braccio destro del dottor vu il crimine paga malvagità ricompensa 10.000 il nostro primo compito è trasformare questa piccola città innocente in un terreno fertile per la criminalità piazziamo più fabbriche inquinanti e cerchiamo di fare tutto il possibile per attirare nuovi criminali in città devo andare devo anche chiederti di costruire una torre per il dottor vuo e i suoi seguaci stufo di condurre le operazioni dal bar del quartiere ci sto tu dici no giordano ma non c'è una selezione di tutte le strade a aumentare tutto il processo di miglioramento magari che faccio facciamo più tardi magari sarebbe figo vedere cosa succede sì sì ho il canale discord te l'ha postato va dare hai visto tutto bene trodde io tu come stai più tardi dai poi vediamo sta aumentando la domanda per quanto riguarda la zona residenziale aumenta addirittura quella della zona del valore 3 compratori con reddito domanda commerciale alta è vero dobbiamo aumentare la zona commerciale ok li mettiamo magari qui tipo qua non lo so cancelliamo questo questo sarà una no aspetta ho sbagliato non qua così non mi piace ok ma quindi quando tolgo la zona si cancellano le strutture ma c'era aspetta qui da qualche parte stava il benzinaio che fine ha fatto qui c'era un benzinaio prima è scomparso oddio la domanda commerciale è cresciuto un botto ho finito i soldi comunque ho visto su instagram quanto hai pagato sono un regalo fabio sono stra belle si si costano un pochino ma sono un regalo quindi non so quanto costano cioè costano un po' insomma non so quanto devo demolirli ok e quindi quali erano aspetta questo ok più soldi muoviti queste case sono aumentate di valore ma perché qui non sono aumentate e qui si ma qui no che male ho immediato bisogno di un'ambulanza aiuto ma lui cosa fa di preciso questo io non l'ho visto neanche una volta punti notorietà 25 su 5000 feriti c'è qualcuno che ha bisogno di un'ambulanza che devo fare schiacciare feriti che cos'è sta cagata garage per la turbo machine ma esiste sto tizio Vic fai scegliere la casa del dottor V alle persone V di youtube ma come dicono tutti rovinano la città aumenti i disastri naturali se lo fai ah ok vedremo dai vedremo cosa dice questo sentite che questa è un'opportunità unica per dare a 104 siti un tocco distintivo un parco mongolfiere sarebbe una cosa spassosissima un modo bizzarro per divertirsi pensaci tu sì ci sarebbe piazza un parco mongolfiere ok dove sta questo dobbiamo arrivare dobbiamo arrivare al dipartimento del turismo nella regione che cazzo lo teniamo il dipartimento di turismo la domanda sta un po' scendendo quindi dobbiamo mettere più assolutamente più zone commerciali qui magari possiamo espandere un po' la zona volendo possiamo fare tipo delle stradine qui così ho cancellato qualcosa ok no ok 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 è qui qua c'è la polizia nel caso si fanno tutto il giro no qua non si può fare niente ok zona commerciale qui invece abbiamo cos'è cos'è sta roba aspetta ah la discarica ma mi sa che non mi conviene mettere nulla qua perché se poi si deve fare l'upgrade di questa deve avere lo spazio qua dietro esatto Tommaso grazie per il re benvenuti che vuole ok questo stronzo mette accende il forno a 400 gradi ma si può almeno non esiste no non si può veramente farlo la domanda commerciale è ancora alta la domanda residenziale è alta qui aspetta come eravamo cos'è sto aspetta aspetta avevamo problemi le aule sono di nuovo piene incredibile ah mi sono dimenticata di mettere la biblioteca pubblica comunque devastate le case per la scuola si sbloccheranno anche aspetta ma abbiamo lo spazio necessario aspetta vabbabbabbabbabbabbha 550 studenti e pulmini ci aspetta non mi ricordo come faccio a sapere se abbiamo abbastanza ci arrivano 550 di 592 come faccio a sapere se ci sono abbastanza pulmini. Oddio, ma stanno investendo i bambini. Ma come cazzo guida questo? Oddio! Cosa fai? Bambini investiti, proprio. Come faccio a sapere se sono abbastanza pulman? 750... Non capisco. Come si fa a capire? Ci sono tanti bambini. Un pulmino 50 ragazzi. Eh, ma allora perché l'altro... Allora, se un pulmino 50 ragazzi, ma per coso ci sono due pulmini? Ma dove c'è scritto? Io voglio che ci sia scritto. Io non riesco... Cioè, se uno non è capace a fare i calcoli, cosa deve fare? Perché c'è i pulmini... Pulmini scolastici 2. Quindi in totale ne abbiamo 4. E quindi di conseguenza... Sono 200 bambini trasportati? Beh, c'è uno... Stanno viaggiando tutti. Che devo fare altro? Ne metto un altro. Gli altri vanno piedi. Boh, vabbè. La scuola sta diventando enorme comunque. Questo non si è ancora evoluta, questa zona. Ragazzi, dobbiamo fermarci, mi sa. La mia schiena questa volta dovrà sicuramente operarmi. Questo stronzo, secondo me, è inutile. Sarà utile forse durante qualche disastro naturale, magari. Dobbiamo... Solo dobbiamo pensare una cosa. Alla clinica. Che dobbiamo fare? Dobbiamo metterne un'altra qui? Eh, mi sa di sì. Ma non possiamo farlo adesso. La polizia? Ma scusate, ma questo funziona da polizia? Cioè, va in giro a catturare i criminali? Perite curate, criminali catturati, incendi estinti. Allora, se ottengo 500 punti in autorietà, eh, ma come li ottiene, scusa? Ecco dove Maxisman tiene la sua turbomachine per proteggerla dai vandali. Con la sua turbomachine, Maxisman risponde all'emergenza e alla velocità della luce. Questo mezzo di trasporto è altamente superiore rispetto alla cautious machine. Quindi gli serve il garage? Perché adesso non funziona? Decolla al bordo del suo reticolare. Si precipita in città e stingo l'incendio per poi tornare qui. Dove ovviamente è terra. Fiero di ostacolare i piani del Dottor Wu. L'università si può fare le ricerche per costruire le grandi opere. E come si fanno le ricerche? Che cosa è sta cagata? Vabbè, devo capire. Devo capire. Assolutamente. Devo andare sull'università? Non approvato. Scuola superiore. Dipartimento dell'educazione nella regione. Come si fa il dipartimento dell'educazione? Scuola professionale. 800 studenti al giorno in una città della regione. Biblioteca pubblica. Questa ci serve comunque. Università. Dipartimento dell'educazione nella regione. 1200 studenti al giorno in una città della regione. Dal municipio? Ah, quindi bisogna aspettare che si upgradi il municipio, no? Che sta qua il municipio? No, aspetta. Dipartimento delle finanze. Oh mio Dio, ma qui dovremmo spostare tutto, mi sa. Non ci starà niente qua. Fare la missione dei cattivi ci starebbe, così per vedere come si comporte il supereroe. Esatto. Secondo me ci starebbe. Tanto stiamo testando tutto in questa città. Cartello del municipio. Molto importante, devo dire la verità. Dipartimento dell'educazione. Accesso alla scuola superiore e università. Finanze. Controllo dell'aliquota fiscale per zona eredito. Sicurezza. Accesso all'ospedale, caserma dei pompieri grandi e distratto di polizia. Turismo. Monumenti, stadio, professionistico, parchi grandi. Stazione ferroviaria, passeggeri, stazione degli autobus, aeroporto municipale, porto e per traghetti. Servizio pubblico e simcopter 1. Per i sindaci che amano fare un'entrata tronfale. Ma stai zitto. Mettiamo magari qualche... Fermata dell'autobus prima di staccare. Incenti in città? E cosa vuoi da me? Non ci arriva? Ci arriva? Ci arriva? Non ci arriva? Sì, ci arriva, forse. Sono un po' lontani, forse. Muovetevi! Cazzoni! Sì, stanno arrivando, è un po' lontano. Bisogna assolutamente spostare. Il municipio occupa un intero quartiere, mi sa. Ma che cazzo è vero, eh? Perché la città si espande, quindi ovviamente tutto cresce. Ma, scusa, se volessi spostare il municipio? Non si può spostare un cazzo. Ah, vabbè. Piazza la torre di V. Ok, dobbiamo farlo. Ok, 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 ci sta, ci sta. Lo faremo poi. Qua c'è un altro incendio? Vabbè, non lo so. E cosa stavo facendo? Volevo mettere velocemente... Incendio in città, incendio in città, scadone in città, ma ce ne stanno occupando i pompieri, ok. Volevo fare le fermate. Ok. Ok. Sì, i bambini possono andare a scuola. La scuola sta diventando enorme. Fra un po' non ci sarà più nessuno. Sì, andate a studiare, cazzoni. Ok, così va bene. Yuhuu. 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 Però non so se ha senso fare avanti e indietro, cioè così, vabbè. Vabbè, forse ha senso, non lo so. Laga, basta. Sfine. Salva. Dr. V uguale a disastri. Ok. In questa città ci sono molte cose divertenti da fare. Sì, metteremo i trasporti. Metteremo tutto, ragazzi. Tutto quello che c'è da fare. Dobbiamo vedere come funziona, assolutamente. Dobbiamo fare la brida alle strade, però. Cioè, tipo, quale abbiamo fatte? Che figata questo parcheggio! Che bello! Vedete? Che figata. Dobbiamo migliorare le strade, così possono crescere delle strutture più grandi. Ok. Adesso andiamo su Minecraft. Sì, Pandora S&P. Server dell'ignoranza. Sì.